Dal 21 al 23 di ottobre Museo City in Tour vi proporrà tanti itinerari alla scoperta di archivi d'artista, musei d'impresa e luoghi del design in tutta la regione Lombardia. Tre giorni di grandissime scoperte. Narrazioni nuove, relazioni assolutamente inaspettate tra i grandi protagonisti dell'arte, della cultura e del design di tutta la regione. Museo City in Tour nasce con l'obiettivo di rendere accessibili alcuni spazi, a volte chiusi al pubblico e soprattutto di rendere nota al grande pubblico lombardo ed italiano, ma non solo, la ricchezza culturale del nostro territorio. Connessioni, cultura e creatività.